Ogni anno qui a Teramo, tre giorni di riflessione sull'approccio One Health alla salute di prevenzione. Questo approccio prevede la salute dell'uomo strettamente correlata a quello dell'animale e alla salute ambientale degli ecosistemi. Tutti gli anni ci troviamo qui con scienziati, decisori politici e giornalisti per discutere e far emergere questo approccio e diffonderlo. Quest'anno il focus è l'Africa. L'Africa è sotto gli occhi di tutti un continente nuovo con una demografia che cresce molto velocemente, un territorio ricco di terre coltivabili ed è ricchissimo del sottosuolo. L'Africa per l'Istituto Zooprofilattico di Teramo è un laboratorio per lo studio delle malattie infettive. Sappiamo dalla storia che le malattie infettive che sono presenti oggi nel territorio africano domani arrivano in Italia e in Europa, sia quelle che colpiscono direttamente gli animali sia quelle che dagli animali passano all'uomini.